Quindi ultimo giorno dello stato di emergenza, scade domani. Che cosa succede a partire dal primo aprile? Ce lo spiega la nostra Emanuele Ambrosino. Come sapete... Ci ha accompagnato per 26 mesi, è stato lo strumento giuridico utilizzato per gestire la pandemia. Con la fine dello stato di emergenza, il 31 marzo, terminano anche le funzioni del commissario straordinario del Comitato Tecnico Scientifico e il nostro paese non sarà più diviso in zone a colori, dove il rosso ha indicato rischio e restrizioni maggiori. Il primo aprile è la data da segnare in verde sul calendario. È il mese che alleggerirà il Green Pass via via fino al primo maggio, quando non servirà più. Vediamo per cosa occorrerà ancora mostrare il certificato verde rafforzato da vaccino o guarigione o quello base, rilasciato con tampone antigenico, per 48 ore o molecolare per 72. Da venerdì si può mangiare all'aperto, senza Green Pass, per un tavolo all'interno basta quello base. Mascherina, ma nessun certificato verde da mostrare, per negozi e uffici pubblici. Nessun obbligo per alberghi e strutture ricettive. Il Super Green Pass verrà richiesto invece per le feste, per il cinema e il teatro, i concerti, per le palestre, le piscine e gli eventi al chiuso. Come si viaggerà? Sui mezzi pubblici locali con la sola mascherina FFP2, ma su treni, aerei e navi servirà il Green Pass base. Cambiano anche le regole per le quarantene e la scuola. Dal primo aprile stop all'isolamento per chi ha contatti stretti con un positivo, anche per i non vaccinati, resta l'obbligo di FFP2 per dieci giorni. Archiviata la DAD per gli alunni di ogni età, se non per chi è positivo, tornano a scuola i professori non vaccinati, ma senza lavorare a contatto con gli studenti. L'obbligo di completare il percorso vaccinale per gli over 50 resta fino al 15 giugno, ma potranno tornare a lavoro con Green Pass base e così anche per le forze dell'ordine e per i militari. Emanuele Ambrosino, Schetti G24.